Ciao belle, eccoci qua Niente, per un video acquisti Che dirvi? Allora, ho recuperato i due personaggi della galassia Adesso ho finito tutti i due Marvel.0 Ho finito i personaggi della galassia Dai, metti la fuoco, questo è più carino Più figo Prendiamo gli occhietti Che non riesce a metterla fuoco? Vediamo Così è andato a fuoco Ok, lui Ho preso i loro due, adesso li metto insieme qua Ai personaggi Ok, uno ci sta qui Un altro un po' la vedo l'ora perché è un po' cicciottosa Ecco, finito tutti i due Marvel.0 Poi, queste sono le loro carte Ok, poco sorpreso Niente, vorrei ringraziare tutti i ragazzi iscritti Vi stanno iscrivendo al canale Ragazzi, saluto il mio socio Gabri Ciao bello Saluto Marcus88isbox1 Ciao Un fratellone Miki BonuracioneTV Ciao Fra E la Fra Free Adesso sto facendo anche la collezione di questi cosini qua Andrò, si metterà qua Il robot Andrò, metti a fuoco Eccoli qua Ho trovato questi due per ora Non so se metterà fuoco Assolutamente piccoli Fatevi vedere Ecco Intenzione di colzonarli tutti Se un bel po' C'è una cosa che non è con più Niente E tutti i miei nuovi iscritti Tutti i ragazzi che continuano a seguirci Continuate così Noi siamo felici, stiamo crescendo Grande ragazzi Vi adoro E fare un abbraccio grande a tutti quanti Domani se va bene Vedete degli unboxing Spettacolari Poi Che dirvi Sta entrando un po' Da pulire il cane La bella della diretta Oggi Ta 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 Ma prendo subito Guardate cosa c'ho Tra le mani Tra le mani Ha rotto il day one C'ho un cazzo dentro Come sempre Perché I giochi sono sempre più scrasi Un Kaiser dentro Comunque questo Ho visto dei gameplay Mi è piaciuto Poi per il prezzo che aveva Una cazzata ragazzi Veramente La cosa figa Magari costassero tutti così I giochi Veramente Sarebbe spettacolare Vera 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 Veramente E ho preso questo per one Domani faccio altri recuperi Sì tutto va bene Wolfs The Old Blonde Uno ce l'ho Ho preso questo Niente ragazzi Poi sto collezionando Fito Che poi farò vedere Tutto Goldreck Ho finito tutti i jig Che non ne ne dico Con la z E lo sport Adesso faccio le Mazing E Mazinga Z E poi Delle collezioni Della Lego Poi farò vedere Comunque ragazzi Questo E due pupazzetti Sono da questi Che ho fatto Oggi E Di quelli c'era l'offerta La media Ho sempre Individuo Di pagare 14 Che dirvi Mando un saluto Alla mia dolce metà Ciao amore mio E Che altro dirvi Niente Continuate a seguirci Saluto tutti i ragazzi Che mi dico Di salutarli Ciao belli Un abbraccio grande E Che dire Andate a vedere I loro canali Chi vuole essere iscritto Sul gruppo di whatsapp Chi vuole inga Ragazzi Scrivete la pagina Facebook Mettete un bel mi piace E entrate nel gruppo Di Facebook Mi raccomando Dai su Ok Ora vi saluto Vi dico Ciao belli Alla prossima La palestra sta andando bene Le visite stanno andando bene Sto posizionando con le visite E vi terrò aggiornati Ok belli Alla prossima Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao